E sono 14 le vittorie consecutive del Volley Club Schack nel campionato di Serie C maschile girone A. Roccazzella e compagni, al termine di una partita combattuta e difficile, hanno superato in trasferta l'Atlon di pace del Mela, la trasferta più lunga del girone. Il match si è chiuso soltanto al tie-break in favore degli ospiti. Il tie-break è andato a pannaggio degli ospiti per 10 a 15. Grazie a questa vittoria il Volley Club Schack si porta a 40 punti in classifica, sempre capolista, con tre lunghezze di vantaggio rispetto al termine Imerese, che dunque ha rosicchiato un punto e diminuito lo svantaggio. Il termine Imerese infatti ha vinto agevolmente per 0 a 3 sul campo del club Leone Palermo e rimane in scia del team guidato da Enzio Graffeo. Mancano pochi turni alla fine della prima parte del campionato e lo Schack è chiamato all'ultimo sforzo per mantenere la testa della classifica fino alla fine. Prossimo turno, sabato 9 marzo alle ore 17 contro l'SP Auto di Mazzara del Vallo, incontro che si disputerà presso la palestra dell'Istituto Meriano Rossi di Sciacca. Doppia vittoria per il sodalizio locale, in quanto anche la squadra femminile ha portato a casa tre punti fondamentali nel match casalingo disputato contro il Palermo Mondello Volley. 3 a 0 per le ragazze di Dinino Marchese ed Irene Di Mino, in quello che era un vero e proprio spareggio salvezza. Questi i parziali finali, 25 a 5, 26 a 24 e 27 a 25, con i due ultimi set molto combattuti. Un successo importantissimo per il Valle Club Sciacca perché ha permesso da un lato di agganciare in classifica proprio il Mondello Volley a 13 punti e dall'altro di tenere a debita distanza le posizioni basse della classifica. Prossimo turno in trasferta, domenica 10 marzo alle ore 18 a Villagrazia di Carini contro il Volley Carini, altra formazione che, come lo Sciacca, ha 13 punti in classifica.